L'abbraccio del successore di Pietro al successore di Marco, Papa Tawadros II, è stato l'evento che ha chiuso la prima intensa giornata di Papa Francesco al Cairo e l'emblema della vicinanza di tutti i cattolici alla Chiesa Copta Ortodossa. È la comunità cristiana più numerosa in Medio Oriente con i suoi 9 milioni di fedeli ed è stata nuovamente colpita al cuore dagli attentati a Tanta e ad Alessandria nella Domenica delle Palme. Il Vescovo di Roma lo ha ricordato nel suo discorso nel patriarcato incastonato nel vecchio Cairo cristiano. Questo ecumenismo del sangue è un modo di vivere il nostro comune battesimo anche a costo del sacrificio. Il sangue innocente dei martiri, versato piuttosto che cedere alla tentazione di rispondere al male e con il male, ci unisce. Le vostre sofferenze sono anche le nostre. Preghiamo, ha aggiunto Papa Francesco, perché tanti sacrifici aprano la via ad un'avvenire di comunione piena tra noi e di pace per tutti. Insieme possiamo già parlare la lingua comune della carità, ha proposto il Pontefice, e prima di intraprendere un'iniziativa di bene sarebbe bello chiederci se possiamo farla con i nostri fratelli che condividono la fede in Gesù. Così cresce la comunione già effettiva che si fonda sull'unico battesimo. Temi che sono stati ripresi nella dichiarazione congiunta che Papa Tawadros e Papa Francesco hanno firmato al termine dell'incontro. In processione poi le due delegazioni si sono trasferite nella vicina chiesa di San Pietro, dove l'11 dicembre scorso un terrorista suicida ha ucciso 29 fedeli. Assieme a Tawadros e Francesco, il Patriarca ecumenico di Costantinopoli, Bartolomeo I, i capi delle chiese episcopale ed evangelica d'Egitto, il Patriarca copto-cattolico Sedrac, quello Melchita cattolico e quello greco-ortodosso d'Alessandria, hanno presieduto una preghiera ecumenica. Benedici il mio fratello Papa Tawadros II, benedici tutti i fratelli vescovi che sono qui e tutti i fratelli cristiani, ha pregato in spagnolo Papa Francesco alla fine, guidaci sulla via della carità, del lavorare insieme alla mensa comune dell'Eucaristia. Al termine tutti i vescovi hanno pregato e acceso un cero davanti al muro dei martiri nel chiostro della chiesa, intriso del sangue delle vittime dell'attentato di dicembre, prima che Papa Francesco deponesse una corona di fiori. Grazie a tutti.